Come son contenta, come son contenta, recita l'iscrizione che si trova sul basamento di questa bellissima scultura realizzata nel 1884 da Giovanni Scanzi e conservata alla Galleria di Arte Moderna di Genova Nervi. In quest'opera si esercita tutto il virtuosismo dello scultore che si manifesta nelle meravigliose rush che decorano le maniche della bambina, nel suo colletto e poi nei ricci della capigliatura. La bambina sta spetalando un fiore e infatti possiamo vedere come i petali siano caduti sulla sua gonnellina a pieghe e poi osserviamo la bellezza di questo tralcio fiorito di rose che si arrampicano sul sedile sul quale la bambina si appoggia. A ben vedere quest'opera si richiama alla produzione del realismo borghese che ritroviamo all'interno del cimitero monumentale di Staglieno.